Hai di recente iniziato ad avere vuoti di memoria a breve termine? Hai disturbi della visione o perdi spesso il senso dell'orientamento? Hai problemi ad eseguire semplici attività quotidiane o difficoltà a trovare le parole giuste? Questi sintomi possono avere molte spiegazioni, ma non necessariamente vogliono dire che sia affetti dal morbo di Alzheimer. È comunque possibile oggi individuare la presenza del morbo di Alzheimer con estrema certezza e per di più in una fase molto precoce della malattia. Infatti, prima ancora che si manifestino i primi sintomi, questa malattia neurodegenerativa ha già iniziato a svilupparsi nel cervello. È tempo di consultare un medico in un centro specializzato in disturbi della memoria, in modo da avere una diagnosi precisa di ciò che è alla base dei tuoi sintomi di perdita di memoria. Il tuo medico ti visiterà e ti chiederà di eseguire alcuni semplici test. Questo permetterà di ottenere una più precisa comprensione dei sintomi ed escludere altre possibili cause. Come si sviluppa la malattia di Alzheimer? Alla base della malattia c'è la presenza sempre crescente di placche e di grovigli neurofibrillari nel cervello. Questo è dovuto ad un accumulo di depositi di amiloide, nonché a forme anomale della proteina tau-iperfosforilata. Ciò porta a lesioni nel cervello, con progressiva perdita di neuroni e connessioni sinaptiche, che ne compromettono funzionalità e prestazioni. Le moderne tecniche diagnostiche in vitro consentono al tuo medico di stabilire con grande chiarezza se sei affetto dal morbo di Alzheimer oppure no, attraverso l'analisi di alcune gocce di fluido cerebro-spinale prelevate nella regione lombare. Questo prelievo viene effettuato da personale specializzato e viene eseguito in anestesia locale in posizione seduta. La provetta viene rapidamente trasferita in un laboratorio clinico per la misurazione di specifici marcatori biologici presenti nel tuo campione. Il laboratorio esegue i test per i biomarcatori per l'Alzheimer e stabilisce il tuo profilo CSF, fluido cerebro-spinale. I risultati vengono immediatamente inviati al tuo medico. La rilevazione biologica della presenza dei biomarcatori per l'Alzheimer o l'assenza di biomarcatori per l'Alzheimer è un elemento essenziale per una diagnosi affidabile della malattia. Sapere il prima possibile se si soffre del morbo di Alzheimer consentirà al tuo medico di aiutare te e la tua famiglia ad adottare la migliore assistenza possibile. Il tuo medico può prescriverti il monitoraggio terapeutico più adeguato e aiutarti ad anticipare il futuro.